Pacchi di farmaci, vestiti, coperte e tanto altro ancora, locali della Badia Grande che in tre giorni sono stati riempiti dalla generosità di tanti saccensi che hanno aderito numerosi all'invito dei promotori della raccolta a favore delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria. Al momento non siamo nelle condizioni di quantificare il materiale accumulato nei magazzini, dice l'assessore alle politiche sociali Agnese Sinagra, ma siamo andati oltre ogni aspettativa e la generosità dei saccensi è stata grande. Hanno donato non solo tanti cittadini ma anche strutture alberghiere e farmacie come Pace, Tulone e Tagliavia che hanno donato tanti farmaci e presidi sanitari. I cittadini si sono presentati con indumenti, medicina e coperte così come richiesto e anche con calzature, pannolini, zaini, borse. Ringrazio di cuore, prosegue Agnese Sinagra, quanti hanno aderito all'iniziativa e tutto il mondo del volontariato e non solo, che ha dato una grossa mano d'aiuto e con un impegno considerevole all'intera organizzazione. Quanto raccolto sarà nei prossimi giorni trasferito con mezzi della protezione civile a Palermo nella sede della moschea dell'imam Badri al-Madani per essere poi inviato nelle aree devastate dal sisma. L'iniziativa è partita da un incontro operativo convocato lo scorso 15 febbraio dall'assessore Agnese Sinagra al comune dopo aver accolto l'invito della comunità musulmana dell'associazione paideia di Shaq e dell'imam Bradri al-Madani e aver avuto la disponibilità alla collaborazione da parte di tante associazioni di volontariato. La raccolta si è svolta lo scorso fine settimana ed ha avuto come centro un locale di pertinenza della chiesa di Santa Maria dell'Itria a San Michele. Hanno contribuito diverse associazioni, enti e club service, i gruppi scout a Gesci 1 e 2, i Cinque Sensi, i Lions e Sciacca Ost, la Fidapa, il Rotary, l'Inner Will, l'Anfi, i Marinai d'Italia, Agape Onlus, Orazio Capurro, club Sciacca Terme, cittadinanza attiva, la Caritas delle parrocchie dei Cappuccini San Calogero e Carmine, i gruppi di volontariato AIC Italia, parrocchia Beata Maria Vergine di Loreto, il Banco Alimentare e la Protezione Civile.